18-14, quindi 4. Poi al mese? Settembre. Settembre 5, quindi 4-5-9. E poi l'anno mi manca. Perché tu lo sto di tutto io. E poi io ti dico un'altra cosa, che poi ti stessuno. Eh, ti ho detto tutto. Ok, dimmi l'anno. Eh, 60. 4-5-9, 9-5-14. Domenica. Io ti dico che è il giorno alla settimana, capito? Ah, io... Capito? Io risargo al giorno alla settimana. Lo so, lo so. Come lo sai? Io ho un calendario. Ma io lo faccio a mente, non lo fa nessuno. Vabbè, allenamento. Non lo fa nessuno a mente in pochi secondi. No, 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 è allenamento. Hai capito? È allenamento. Mauro, abbiamo scoperto... Ma hai ripreso, spero. Grazie, Stefano Nera, che è nato di... Domenica. Domenica, grazie. Ma che scherzi?